Oggi abbiamo avuto la notizia, avevamo già la comunicazione ma oggi abbiamo effettivamente il provvedimento di un intervento del Governo a sostegno della Regione Toscana sul tema della meningite. Il Governo ci ha dato 10 milioni di euro come ci aveva promesso e quindi ringraziamo davvero la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministro Lorenzin per questo sostegno e per questo aiuto che hanno dato alla Toscana riconoscendo in questo modo anche il nostro impegno per una vaccinazione che continua ad essere l'unica barriera per questo batterio particolarmente aggressivo. Ora il testimone passa ai cittadini che purtroppo reagiscono in maniera diversa ai momenti in cui non si segnalano casi invece al momento in cui ce ne sono di nuovi. Però è vero che adesso abbiamo messo in campo la medicina generale e che attraverso l'accordo che abbiamo fatto con i medici di medicina generale vaccinarsi è davvero sempre più facile, basta andare dal medico di medicina generale che ha la possibilità immediatamente senza fare code e senza lunghe prenotazioni di fare la vaccinazione e quindi diventa un gesto davvero facile e davvero accessibile senza costi e quindi speriamo che questo la renda a tutti più facile vaccinarsi e quindi tutti si convincano che devono farlo. Grazie.